se sei finito su questa puntata tu come tanti e tanti altri sei qui perché stavi cercando le colonne sonore di spirit cantate da zucchero il problema è così come te e tutti quanti gli altri non hai trovato giustamente un risultato alla tua ricerca come mai beh cerchiamo di fare chiarezza appena dopo la sigla per capire che cos'è successo io sono samuele e dio riccardo e ti do il benvenuto a tg kiwi il podcast a tema musica cinema e talent più ascoltato in italia e questo è chi vita lo sapeva come andiamo amici di kiwi amici di kiwita le nostre curiosità targate per l'appunto kiwi cioè noi come andiamo tutto bene la puntata di oggi ci porta nel suggestivo e selvaggio mondo del film di animazione spirit cavallo selvaggio un classico del 2002 un capolavoro che ha incantato il pubblico per la sua storia avvincente e la sua animazione straordinaria la pellicola racconta le avventure di spirit uno stallone selvaggio appartenente ai mustang cavalli simbolo di libertà nelle praterie del west americano se ve lo chiedete sì è esattamente il motivo per cui si chiamano così anche le auto della ford le mustang ford mustang il film prodotto dalla dreamworks animation si distingue per essere uno dei pochi lungometraggi animati a non far parlare il protagonista animale spirit infatti non parla ma la sua storia viene raccontata attraverso le sue emozioni azioni e il potere della musica questo ha reso la narrazione visiva ancora più potente ha permesso alla colonna sonora di avere un ruolo centrale ed è l'esatto motivo per cui tanti e tanti di voi si sono trovati qui quest'oggi a cercare zucchero perché si parliamo di zucchero ma soprattutto le colonne sonore di spirit in italiano perché sono presenti online ovviamente le colonne sonore diciamo ufficiali originali quelle che secondo dreamworks sono quelle quelle vere in americano in inglese ovviamente il problema dove sta è che noi abbiamo delle versioni delle colonne sonore chiaramente cantate in italiano da zucchero ma ve ne parlerà tra pochissimo samuele che non si trovano non c'è verso di trovarle ma vabbè lascio il collegamento a samuele che vi racconterà di più e parliamone di questa splendida colonna sonora composta da hans zimmer ed interpretata in originale da brian adams fu proprio quest'ultimo in persona che assieme alla dreamworks scelse di chiamare zucchero per farne l'adattamento in italiano tra i due infatti c'era un'amicizia nata qualche anno prima avevano lavorato assieme si erano esibiti in concerto zucchero sceglie di coinvolgere anche la figlia irene allora 19enne nella scrittura dei test in italiano perché cito se avessi tradotto io le canzoni avrei rischiato di utilizzare concetti troppo sofisticati e maturi che mal si adattano al cartone animato e il risultato beh lo conosciamo tutti grazie mio giovane amico samuele capace come sempre di trovare le migliori kiwita in giro per il web ma passando alla trama per quelli che non hanno avuto ancora il piacere di guardare questo capolavoro la trama segue spirit mentre affronta il tentativo degli uomini di addomesticarlo e piegarlo alla loro volontà durante il viaggio di spirit il cavallo si imbatte in un giovane lakota piccolo fiume con il quale stringe un legame di profonda amicizia e in pioggia una cavalla con la quale vive una struggente storia d'amore il film è un inno alla libertà alla forza dell'amicizia e all'importanza di rimanere fedeli a se stessi spirit è anche uno dei film che segna la transizione tra l'animazione tradizionale e quella digitale mentre i personaggi principali come spirit e pioggia sono stati disegnati a mano molti degli sfondi e degli effetti speciali come le praterie e i cieli sconfinati sono stati creati con tecniche digitali conferendo un realismo mai visto prima d'ora in un film di animazione il film è un vero e proprio omaggio alla bellezza della natura e alla cultura dei nativi americani le praterie le montagne i fiumi rappresentano non solo il mondo fisico in cui spirit vive ma anche la sua stessa libertà ad oggi se vogliamo cercare di trarne una morale soprattutto dopo essere cresciuti averlo visto tanti e tanti anni fa è sicuramente un grande capolavoro dell'animazione che fa il possibile se non più anche del possibile per spiegare che fondamentalmente l'uomo cerca sempre di mettersi in mezzo con questioni della natura che potrebbe tranquillamente cercare di evitare questo bisogno dell'uomo di controllare di prendere ciò che è puro e naturale fa già il suo no e noi ci mettiamo sempre lì in mezzo a cercare di modificare le cose con la forza spirit beh da ragazzini ci ha sicuramente già insegnato questo piccolo particolare che a differenza di tanti e tanti cartoni animati di oggi sicuramente una morale che non trovo da nessun'altra parte poi non è che ne ho guardati tantissimi per carità dei nuovi cartoni però non è un concetto che purtroppo ritrovato dopo spirit cavallo selvaggio ha ricevuto una nomination agli oscar come il miglior film d'animazione nel 2003 che però venne sconfitto aggiungerei giustamente perché sono gran fan dell'altro film venne sconfitto dalla città incantata di mia zaki che diciamo che tra tutte e due grandissimi capolavori però devo dire la verità sono fan di mia zaki e della città incantata in particolar modo certo che difficoltà tremenda c'è io qua mi immagino quelli che hanno dovuto decidere tra uno e l'altro io non so come avrei fatto non so come hanno fatto non credo che ce l'avrei fatta raga è totalmente diversi come prodotti cinematografici capolavori entrambi come fai a scegliere io non lo so nonostante non abbia vinto il premio è considerato però ancora oggi uno dei film d'animazione più amati con un forte fortissimo seguito di fan è una colonna sonora che è diventata un classico che però purtroppo in italiano non è presente da nessuna parte è introvabile io lo so è è triste per noi fan però non c'è ragazzi purtroppo so però una cosa nel 2020 è stata creata una petizione una raccolta firme per spingere quelli di disney credo che abbiano ad oggi i diritti del cartone a metterli finalmente su spotify e su tutte le altre piattaforme di streaming ora io non lo so se riusciremo mai a raggiungere questo risultato una cosa è certa le canzoni in versione italiana cantate da zucchero riescono miracolo eh a rendere contenti anche i non fan di zucchero è il primo caso credo nella storia che conosciuto è toccato con con mano nella vita vera di gente che odia zucchero ma ama le colonne sonore fatte da zucchero per questo cartone questo già basta e avanza ve lo posso assicurare per spingere per rompere i maroni a quelli di dreamworks e piazzarlo su spotify ce lo meritiamo voi che dite ed è tutto anche quest'oggi per questa kiwita strettamente legata non so è una kiwita di cinema insomma è un po particolare come puntata un po ibridata come come le tecniche di animazione dello stesso spirito metà tradizionale metà digitale ecco qua è una metà kiwita metà cinema di tg kiwi insomma abbiamo fatto un po di tutto però dai spero che abbiate apprezzato questa puntata un po diversa dal solito se già non lo fate inutile dirvelo vi invito a seguirci e farci conoscere ai vostri amici che sicuramente apprezzeranno quello che facciamo come faccio a saperlo beh sono riccardo di tg kiwi sono uno dei due che ha creato questa realtà vuoi che non sappia che i tuoi amici apprezzeranno la nostra realtà ma è ovvio l'ho creato appositamente per risolvere uno dei miei problemi cioè non sapere mai che cosa esce che cosa fanno di musica di cinema non sono mai abbastanza aggiornato quando mi trovo a parlare con le persone da quando ho kiwi o finalmente riesco a conversare con tutti di tutto ragazzi basta e avanza come motivo non trovate grazie grazie grazie